Emiliano ha dimostrato che ci sono margini, naturalmente non si conclude tutto con oggi, margini se non sono sempre, se c'è la volontà politica di tutte le parti. Voi accogliete Emiliano a braccio aperto adesso? Non devo accogliere a braccio aperto, penso che avendo lottato per impedire la scissione, avendo constatato che c'era una scissione, avendo chiesto di tornare, perché abbiamo bisogno delle persone che sono uscite per questo Partito Democratico, un rientro è sempre un fatto.